Mi dici il tuo nome, la tua età e da quale scuola vieni? Mi chiamo Giorgia, ho 18 anni e vengo da Liceo Artistico Caravaggio. Senti, mi spieghi cosa studi nella tua scuola, quale sono le materie e cosa ti piacerebbe fare nel futuro, se hai già un'idea? Sì, nella mia scuola in specifico, essendo un quinto anno, studio designer dell'interno, quindi arredamento, e in futuro voglio lavorare in architettura e diventare un architetto e un interior designer. Oggi stai partecipando a Vivere Digitale all'interno del binario F e ti chiedo, relativamente a questa esperienza, avete affrontato diversi moduli, no? A scuola ti è mai capitato di affrontare gli stessi argomenti di cui state parlando oggi qui? Sì, in particolare dell'argomento riguardo l'utilizzo delle pagine web o dei social per poter produrre e promuovere i nostri prodotti, ma non in particolare riguardo la sicurezza del web. Ok, questo corso ti ha aperto un po' gli occhi sulle competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro? Sì, perché comunque oggigiorno ci sono numerosi lavori che sono in via di sviluppo, che riguardano appunto il web, e anche appunto nel mio campo, nel mio settore, è molto importante conoscere queste piattaforme. Ok, ti ringrazio. Di niente.